Oggi siamo qui per la giornata mondiale dell'acqua indetta dall'ONU. Partecipiamo insieme all'ordine dei geologi al comune di Riggionello a fare una festa dell'acqua. Qui cogliamo in effetti tre declinazioni importanti dell'acqua. L'acqua come materia prima per l'industria perché andremo a visitare lo stabilimento del San Benedetto. L'acqua come energia perché andremo a vedere la centrale idroelettrica della società idroelettrica meridionale. L'acqua come gioco perché abbiamo organizzato dei giochi per i bambini in palestra dove il principio è per vincere e non sprecare l'acqua. E l'acqua poi andremo a vedere per gli addetti ai lavori la galleria drenante del Frida che porta l'acqua nell'acquedotto Lucano anche in Puglia. La Regione Basilicata si identifica con l'acqua, però è che ha scelto nel proprio stemma quattro onde di azzurro che rappresentano i fiumi principali della Regione. La Regione partecipa ad Expo portando il tema dell'acqua e questa iniziativa verrà anche presentata a Milano il 9 maggio in un convegno al Padiglione Italia. Speriamo che vada tutto bene e viva l'acqua! Grazie!